ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video sul canale quest'oggi ragazzi andremo a vedere che cos'è questo innanzitutto è un supporto per la videocamera in questione con la mia videocamera posso andare a posizionarla naturalmente dove voglio sulla mia postazione da gaming ed in effetti qualche giorno fa vi avevo fatto anche un video dove vi avevo rilasciato il primo episodio della serie del fai da te ed in effetti ragazzi questo qui lo potrete trovare all'interno della playlist sempre del fai da te naturalmente vi lascerò qui sotto qui in descrizione la playlist completa con almeno un paio di video per il momento man mano che vado avanti naturalmente con queste determinate cose perché innanzitutto mi garbano mi piace fare delle cose mi piace sperimentare nuove cose mi piace fare insomma un tutto fare costruito un tutto fare dunque riguardante questo determinato pezzo come potete ben notare è una L con un pezzo di tondino qui sopra mentre sotto qui ragazzi invece abbiamo un morsetto questo morsetto qui ragazzi l'ho creato io con barretta filettata bulloncino finale tondino posteriormente qui un altro bulloncino all'interno qui e questo qui in tal caso ragazzi funziona in questa maniera qui questo qui naturalmente va ad avvitare sotto qui questa qui è l'apertura dov'è che va inserito al tavolo naturalmente mentre invece qui sopra qui ci va il supporto del treppiede per poterci montare la videocamera non ho trovato nulla a riguardo per questa determinata situazione perché diciamo che non ho gli strumenti esatti per poter fare una cosa del genere però naturalmente questo qui ragazzi è fatto veramente molto molto bene ci avevo un rosso quindi l'ho verniciato più o meno così alla fretta e furia andrò naturalmente a rifarlo di nuovo da capo sopra qui invece ragazzi è tappato mentre qui sopra qui invece ci vuole un tappo in plastica dunque iniziamo con i materiali i materiali sono scatolato 30x30 quindi 3 cm x 3 cm sia il primo che anche il secondo mentre il morsetto ho creato con un piatto da 12 cm sono andato a creare dei piccoli tagli alle due estremità per poter far uscire 4 4 e 4 quindi 4 8 12 la barretta filettata dovrebbe essere da 4 barra 5 cm 6 cm adesso non mi ricordo come detto ho saldato un dado qui sotto qui e qui invece ho piegato un mezzo tondino per poter fare in modo che vado ad avvitare senza andare a farmi male le dita eccetera sarebbe stato molto più comodo forse magari creare una determinata farfalla però in quel momento non ci avevo pensato e quindi l'ho creato in questa maniera qua naturalmente ragazzi ne ho fatto un altro ne ho fatto un altro per poter fare le riprese dall'alto forse andrò naturalmente a modificare quello lì che sto utilizzando adesso perché l'ho fatto proprio questa mattina e quindi lo sto provando proprio in questo preciso istante e quello lì che sto utilizzando adesso ragazzi per farvi il video dall'alto che cosa è successo? in tal caso ho sbagliato semplicemente una misura la misura dell'apertura della videocamera ovvero della lunghezza quindi andando a diminuire un attimino la lunghezza posso avere il corpo della macchina al centro della tastiera perché il mio obiettivo naturalmente era questo soltanto che poi dopo la fine ahimè ho sbagliato completamente la misura quindi ragazzi sono cose che capitano con questo determinato tipo di sistema che ho trovato sia per la videocamera per poterla mettere naturalmente a fianco al monitor ma anche la possibilità di poter fare video dall'alto naturalmente ragazzi questi qua sono sempre lavoretti fai da te insomma con il lavoro che faccio io sono riuscito a crearmi una determinata cosa se magari qualcuno di voi fa il fabbro o magari qualcuno di voi non lo so fa il falegname naturalmente ragazzi ve lo potete creare anche voi insomma risparmiate un sacco di soldi e cercate quantomeno anche di potervi creare una cosa simile io come detto mi ci sono adattato a quello che può essere la mia esigenza di andare a montarci naturalmente la videocamera sopra il supporto innanzitutto com'è che funziona questo qui ragazzi va messo così sopra qui viene la videocamera forse magari ecco qua vi faccio vedere più o meno ragazzi che poi naturalmente non vedete assolutamente quasi nulla ecco qui questo qui ragazzi come detto va messo così quindi il morsetto va messo sul tavolo vado a stringere leggermente e questo qui ragazzi è tutto quanto il supporto come detto qui va il supporto per il treppiede che ho recuperato da un vecchio treppiede ed in effetti dovrò andare a prendermene almeno un altro perché per il momento non ho alcuna idea di come poter creare una sorta di base per poter far mantenere la videocamera sopra perché sennò altrimenti puffete se ne cade e quindi ho trovato questo sistema perché il tondino è da ben 15 mm mentre il furo del supporto del treppiede è da ben 13-14 mm e quindi mi ci trovo veramente tanto tanto bene e così in questo modo posso andare a piazzare la videocamera dove più mi garba così anche come il supporto ad angolo che ho creato per poter fare video dall'alto naturalmente con i video dall'alto certamente l'ho creato perché innanzitutto mi piace creare certe determinate cose e quindi sono andato a crearmi anche il supporto per poter fare video dall'alto i video dall'alto ragazzi come potete ben notare è veramente tanto alto quindi dal tavolo fin sotto l'obiettivo della videocamera abbiamo un'altezza di 60 cm per 50 cm di lunghezza soltanto che come detto la lunghezza l'ho sbagliata quindi dovrò andare a rimodificare di nuovo il supporto ad angolo per poter far sì che la videocamera si piazzi al centro del tavolo vado a togliere naturalmente questo qui e direi che è arrivato il momento ragazzi di concludere il video innanzitutto come detto è uno scadolato 30x30 quindi potete utilizzare qualsiasi tipo di scadolato purché esca un lavoro fatto abbastanza bene e io devo dire che ne sono rimasto pienamente soddisfatto sono materiali di recupero naturalmente e quindi non ho speso assolutamente niente soldi per potermi creare questo mini supporto da tavolo per poterci andare a montare il corpo della macchina della videocamera bene ragazzi detto questo io concludo qui questo nuovo video spero innanzitutto che vi sia piaciuto e se è così vi invito gentilmente a lasciare un like a commentare, ad iscrivervi, attivare la campanellina, condividere il video e noi ci si becca molto presto in un nuovo episodio un saluto a tutti da G90 Gamer ciao a tutti